Io mi occupo di storia e archeologia della Tarda Antichità. Il mio progetto di ricerca riguarda lo studio dei cantieri edilizzi nel mondo antico, in particolar modo nel periodo compreso tra il IV e il VII secolo d.C. Per svolgere il mio lavoro, oltre allo studio a tavolino delle fonti scritte, ho effettuato numerose ricognizioni in siti archeologici del Mediterraneo orientale, come la Grecia e la Turchia. Attraverso il mio lavoro di ricerca vorrei comprendere il funzionamento dei cantieri antichi in tutte le loro fasi e conoscerne gli artefici. Mi sono occupata in particolare dello studio della capitale dell'impero bizantino, Costantinopoli. Qui, attraverso lo studio delle firme apposte dagli scalpellini su materiali in marmo, è stato possibile riconoscere l'esistenza di botteghe artigianali operanti sia per la capitale che destinate a rifornire i cantieri del Mediterraneo. Molti dati della mia ricerca sono emersi durante indagini archeologiche condotte in lavoro di equip in alcuni contesti del Mediterraneo orientale, come le isole di Creta e di Cos. Qui, in un lavoro spesso in sinergia con le autorità locali, è stato possibile lavorare per la conoscenza del patrimonio monumentale, la sua valorizzazione e conservazione. Ho scelto di far ricerca perché lo studio del mondo antico, la conoscenza del mondo antico, mi ha sempre molto affascinato. Innanzitutto per il gusto di conoscere ciò da cui veniamo e la storia degli uomini che ci hanno preceduto, scoprendo poi che lo studio di questo passato ha molto da dire anche al mondo presente.